I dinti L'identità è una parola tanto difficile da definire quanto facile da usare e infatti nella retorica pubblica e politica contemporanea la sentiamo molto molto spesso. Per molti è un bene sommo, l'identità va tutelata, va difesa, bisogna riappropriarsi dell'identità e non lasciare che si perda. Cosa poi sia esattamente questa identità? Spesso non lo sentiamo però dire. Spesso capiamo una cosa però, quando ci sentiamo in difficoltà, quando viviamo un momento di crisi, l'identità sembra la soluzione a tutti i mali. Appartenere ad un gruppo, fare parte di una cerchia, essere forti insieme agli altri per non essere deboli con gli esclusi. Molto spesso diventa questa l'identità. Un calco del passato che non guarda a nessun traguardo davanti a noi, ma che guarda invece a ciò che siamo stati e pensa che semplicemente così, tornando indietro sui nostri passi, troveremo la soluzione ai problemi che ci incalzano. Ci serve questa idea di identità? È questo quello che possiamo portare nel futuro dal passato? Non credo, e non credo che sarà questo ciò che ci racconta Marco Aime, uno dei più grandi antropologi italiani, nel secondo incontro dell'agosto del Gasperiano 2022, intitolato Custodio del Fuoco. Un incontro proprio dedicato al tema dell'identità tra passato e futuro. Grazie per essere così tanti, anzi due volte per aver fatto la salita, anche a piedi, e un grazie agli amici della Fondazione di Gasperi, tutti quelli che hanno contribuito a non solo invitarmi, ma a organizzare questo incontro. Come ha anticipato Marco, ecco, identità. Identità è un termine che è entrato fortemente nel nostro immaginario, nelle ritoriche comunicative, ma non da tantissimo, da qualche decina d'anni, nel senso che quelli diversamente giovani come me, si ricorda che 30 anni fa nessuno si poneva questo problema, oppure se si chiedeva qual era la tua identità, forse ne declinavi in un altro modo, cioè magari più politico, religioso. Oggi invece l'identità che viene spesso citata è quasi un'identità locale, etnica, nazionalista, e adesso poi vedremo cose. E ecco, proprio perché è entrata a questo, vale la pena un pochino di riflettereci. Intanto, è curioso, perdiamo da un presupposto che in natura non esistono due cose identiche, se prendiamo la lettera e la parola identica. Ci sono cose che si assomigliano molto, ma neanche due gemelli omozigoti sono uguali, sono identici, si assomigliano tanto. Quando usavamo un'espressione che oggi è un po' retro per parlare degli altri, diciamo i nostri simili, forse eravamo più saggi. Ci assomigliamo, e a volte neanche tanto, però di sicuro non siamo identici. Quindi, semmai, le due cose identiche possono essere il prodotto di un processo industriale, ma non in natura. Per quanto riguarda gli umani, in effetti, se prendiamo questo concetto che noi, se prendiamo la lettera d'identità, in realtà nasce, ma non lo dico io, lo fa rilevare uno dei più autorevoli storici del Novecento, che è Eric Colpom, nasce nel momento in cui c'è la fotografia, cioè la carta d'identità. Quando un nome, una data e un'immagine ti inchiodano, sei quello lì. Prima della foto potevi abbastanza anche dire che eri chi volevi, ma nel momento in cui c'è una foto diventiamo, nasce la carta d'identità, in questo senso. Ma l'uso della parola identità nelle retoriche politiche è usato un po' come un qualcosa che ci tiene insieme. Partiamo da un primo difetto che ha la parola, che è quello in italiano, con quella A accentata, uno la pensa sempre al singolare. Invece, forse avessimo una S al fondo, come hanno altre lingue, potremmo già, se parlassimo di identità plurali, forse ammorbidiremmo un po' la cosa. Ma lo dico perché non ho niente di pregiudiziare contro l'identità. Il problema è che questa idea di identità è stata spesso usata come arma per escludere qualcuno. Allora, molto spesso la retorica dell'identità non fa sentire noi più identici, ci accomuna solo nella comune avversione contro qualcun altro. Però dobbiamo chiederci che cosa intendiamo allora con questo senso. E' chiaro che noi umani siamo animali sociali per necessità, perché se no si saremmo estinti ben in fretta. E in qualche modo, siccome non abbiamo capacità di pensare, purtroppo abbiamo dei limiti, non siamo capaci di pensare in grande, di pensarci parte di un'unica specie. Faccio degli esempi terra a terra. C'è stato un momento nel 2020 che, anche io ho avuto un po' la sensazione, forse ce la facciamo. Quando è iniziato la pandemia, c'è stato un momento in cui si è pensato o la si vince tutti, tutti come genere umano, o la si perde, anche perché il virus è estremamente democratico, contagia senza guardare il colore della pelle religione. E' bastato poco perché poi ci rinchiudessimo in vari paesi, l'altro, io mi accappavo prima e di nuovo ci siamo creati delle identità. Noi riusciamo a pensarci. E' un problema che è un limite di noi umani. Voi pensate che non esiste al mondo un gruppo sociale, un popolo, che non si sia dato un nome. E che nome? Se noi prendiamo quelli che si chiamavano etnonimi, cioè i nomi che le popolazioni si auto-assegnano, Inuit, per esempio, Bantu, Cherchi, vogliono quasi sempre dire gli uomini, i guerrieri, i migliori. Cioè, nessuno si è mai chiamato gli storpi, gli sfigati. Ciascuno pensa sempre che noi siamo migliori e gli altri un po' meno o addirittura non del tutto. Quindi questo, che si chiama etnocentrismo, è una malattia che colpisce tutti, nessuno è esente da questo. In qualche modo dobbiamo definirci. Perché? Perché noi riusciamo a pensare così in grande. Ma nel momento in cui decidiamo chi siamo noi, perché dobbiamo decidere su che base noi ci consideriamo noi, noi dobbiamo compiere che cosa? Un'operazione di separazione. Tracciare un confine. Noi finiamo qui e di lì iniziano gli altri. Ora, tracciare un confine vuol dire acquisire qualcosa e perdere altre cose. Ho costruito un'idea di noi, non posso più essere qualcos'altro. Mi sono perso tutte quelle altre occasioni. Ora, questo è un comportamento che lo troviamo sempre nella storia, ma ci sono modi e modi di tracciare quel confine. Voi pensate, per esempio, uno dei... che conosciamo tutti perché l'abbiamo studiato a scuola, noi altri, greci, barbari, ma anche romani, barbari, no? Il barbaro chi era? Era l'alto. Il barbaro era il balbuziente, no? Barbaro in greco, cioè quello che non parlava bene il greco, quindi lo straniero, potremmo dire. Bene, però, tanto per i greci quanto per i romani, se il barbaro imparava bene il greco e si vestiva, si imparava a comportarsi da greco, diventava greco o diventava romano. Abbiamo degli esempi nella storia di imperatori che venivano dalle province più estreme dell'impero che non erano per forza nativi di Roma, diventavano romani. Quindi ci sono dei noi che possono anche essere, diciamo, superati, fare diventare altri noi o noi diventare altri, no? E il problema è quando invece noi chiudiamo con una sorta di recinto, di muro, che non deve essere per forza fisico. Pensate, faccio un esempio, per esempio, quando invece, perché, vi ho citato il caso Barbaro e Romani, perché il confine tra noi civili e Barbaro è su un piano culturale. Vuol dire che io posso scegliere, posso cambiare cultura, posso scegliere cosa fare, avere altre opzioni se me ne danno, no? Quando invece io il confine lo sposto, anche se in modo presunto, anzi, sbagliato, adesso lo sappiamo, su un dato naturale, cioè la natura ti ha fatto diverso, quindi sei così, e allora qui non c'è più la possibilità di passare quel confine. Si chiama razzismo. Se io la metto sul piede della razza, vabbè, non posso cambiare razza, posso cambiare idea, posso cambiare religione, posso cambiare... Ma se mi attribuisci una razza diversa non ci sono. Quindi, vedete, ci sono tanti modi, tante sfumature per costruire il noi e gli altri. Ma molto spesso, poi, noi, noi, il noi, lo costruiamo per sottrazione. No, siamo quello che gli altri non sono. Ma uno dei paradossi di chi oggi si fa paladino dell'identità in modo violento è che vorrebbe escludere l'altro, ma senza l'altro non ci saremmo noi. C'è una poesia bellissima di un poeta greco che si chiama Costantin Cavafis che si intitola Aspettando i barbari. Magari qualcuno di voi l'avrà incontrato. Non chiedetemi la memoria perché non lo so, però inizia di contando che tutti si vestono bene perché arriveranno i barbari, le donne si mettono i migliori abiti, i migliori gioielli perché arriveranno i barbari, i funzionari preparano i migliori discorsi perché erano i barbari. Arriva sera, i barbari non arrivano. E il verso finale è, erano una soluzione quella gente. Cosa vuol dire? Che noi abbiamo inventato i barbari per definirci civili. Se non ci sono i barbari cosa siamo? Non saremmo più quelli civili, no? Ecco, quindi ci dobbiamo costruire una sorta di nemico per pensarci buoni. E guardate che è lo stesso meccanismo che c'è alla base di tutte le credenze di stregoneria, no? Se noi pensiamo che quando succede qualcosa di male in una comunità, è stato qualcuno di noi, cominciamo a guardarci male. Diamo la colpa a un nemico esterno, una strega, un qualcun altro. Noi siamo buoni, gli altri sono cattivi. Ecco, quindi l'altro ci serve anche per pensarci, per definirci buoni. Ma di ciò c'è modo e modo. Soprattutto, ecco, questo uso dell'identità, uso politico dell'identità, ha creato degli immaginari che sono sinistri, anche se camuffati, no? Pensate, ecco, alla retorica dello scontro di cultura, scontro di civiltà come retorica. Allora, io vi chiedo chi ha mai visto delle culture o delle civiltà scontrarsi. Sono donne, uomini, bambini che si scontrano e non è che sono così omogenee. Però, cosa sta dietro a queste retoriche? Ve la semplifico, proprio schematizzo. Come sono costruite queste retoriche? Bene, ogni popolo ha diritto alla sua cultura. Si inizia così. Ma, e bisogna fare attenzione all'uso delle parole perché è importante, se due culture vengono a contatto si contaminano. Si parla di contaminazione. Ora, contaminarsi, di questi tempi sappiamo che non è bello, ma non è mai stato bello, ecco, contaminarsi. Quindi è una parola che viene dal gergo medico e indica qualcosa di negativo. Quindi la soluzione è ognuno a casa sua. Però questo è, si usa il concetto di cultura in un modo che è assolutamente falso. Come nascono le culture umane? Partiamo da questo perché poi ci serve per capire meglio. Perché noi umani, ecco, forse faccio un passettino. Allora, in italiano la parola cultura ha due eccezioni. Una è quella di un sapere acquisito sui libri. se io dico Umberto Eco o Massimo Cacciari sono uomini di cultura, hanno studiato tanto, sanno un sacco di cose, niente a dire. In questo caso non è che tutti abbiamo la stessa cultura. Ci sono vari gradi, ecco, tra Umberto Eco e un analfabeto ci sono tante sfumature di cultura inteso come erudizione. Invece, quando parliamo in ambito sociale, antropologico, per cultura intendiamo che cosa? Quell'insieme di saperi, di regole, di norme che ci siamo date che ci permettono in qualche modo di sopravvivere. Ma perché ci siamo dovuti dare quella cultura? Perché voi, se ci pensate, siamo l'unico animale che così com'è non funziona. Tutti gli animali nascono dotati di tutto ciò che gli serve. Se nasco gatto, tutto quello che ho per fare il gatto. Se nasco pesce, sono fatto per fare il pesce. Noi la pelliccia non ce l'abbiamo, non vogliamo. Per nuotare dobbiamo fare un corso, non siamo particolarmente veloci, non abbiamo artigli, non abbiamo zatti. Non è un gran progetto il nostro. Tant'è vero che qualunque animale in poche settimane impara a fare quello che deve fare tutta la vita. Noi passano 30 anni e ancora non siamo in grado. Quindi questa incompletezza dell'essere umano può essere vista come un elemento di debolezza oppure un'opportunità. Perché non essere specializzati, certo degli svantaggi, non sono né carne né pesce, ma il fatto che non sono specializzato possono essere tante cose. Cosa è successo? Che fin dall'inizio gli uomini hanno dovuto riempire questo vuoto che la natura non ci ha dato con delle strategie che servivano a rispondere a quello che l'ambiente richiedeva. Bene, non ho la pelliccia, mi costruisco i vestiti, poi magari anche una casa, prima vado nelle caverne, poi erano le case. Non ho gli artigli, costruisco arco e frecce. Ecco, quindi abbiamo dovuto sopperire. E siccome noi non siamo mai stati fermi, ci siamo sempre mossi, spostandoci incontravamo ambienti diversi che ci ponevano domande diverse e i nostri lontani antenati hanno dovuto rispondere a tutte queste domande in modo diverso. Ecco, la cultura è una cosa che ci accomuna a tutti. Non esiste un individuo senza cultura. Umberto Re, Umberto Re Capuolani, ma non c'è più, Massimo Cacciari, che è ancora vivo, con tutti i libri che ha letto, non sopravvive una settimana in una foresta amazzonica o nel deserto del Sahara. Un Tuareg che non ha mai letto lo fa. Perché? Perché ha quella cultura, quell'insieme di saperi che gli permette di vivere in quell'ambiente. Quindi, quando adesso parleremo di cultura, ne parliamo in questo senso. La differenziazione di cultura è nata dal fatto che ci siamo spostati. Uno dei più noti e più bravi, forse paleontologi, studiore dell'evoluzione, scrive, André Le Rouagoran, scrive in un certo punto il suo saggio principale, una frase bellissima che dice «Tutto avremmo sospettato fuorché essere iniziati dai piedi». E poi, poco dopo, dice «La storia dell'umanità è fatta con i piedi». Il che ribalterebbe anche il modo di dire che le cose fatte con piedi sono brutte, no? Perché, di fatto, se non avessimo i piedi, saremmo ancora tutti in una torre da depressione dell'Etiopia, dove è nato il genere Homo sapiens. E invece siamo andati a rompere le scatole. Siamo l'unica specie che vive dall'Equatore al polo, compreso altipiani andini, deserti, foreste umide e vallati malayane, se volete, tutto quello che volete. Quindi, questa è la parità. Perché ci siamo sempre spostati. Questo dovrebbe far riflettere quando oggi tutta la retorica contro le immigrazioni come se fosse una cosa nuova. Proviamo a starci, guardiamo la storia, nessuno è mai stato fermo. e questo, questo fatto dei piedi, perché è importante? Perché ha fatto sì che, da un lato, per esempio, non siamo più classificabili in razze. Perché non siamo classificati in razze? Perché la razza dovrebbe essere, la razza è il termine che si usa volgamente, gli scienziati la definiscono sotto specie. C'è un gruppo di individui, di una specie, che ha delle caratteristiche particolari. Non l'abbiamo perché ci siamo sempre spostati e spostandoci ci siamo scambiati idee, e lo vedremo dopo, ma anche spermatozoi, non sempre allegramente, ma ce li siamo scambiati. E oggi, da quando c'è stata scomperata del DNA, abbiamo provato che non siamo classificabili classificabili perché abbiamo dentro di noi una tale varietà genetica da non poter essere, cioè probabilmente qui ci sarà gente tra di noi che ha dei geni dell'aborigione australiano, di uno scerpa nepalese, non lo so, ma per darvi un'idea, se di colpo tutta l'umanità scomparisse e rimaniamo solo noi che siamo in questa stanza, l'82-83% del patrimonio genetico mondiale è salvo. Possiamo ricominciare. quindi questo ci fa già capire quanto quando si parla di identità si tende a creare un confine e definire un qualcosa in modo netto che sa qualcosa di puro, di pulito, che non ha contaminazioni. Già da un punto di vista genetico siamo meticciati e a me piace dire imbastarditi ma nel senso positivo del termine perché quello è, ecco, lo stesso è avvenuto sul piano degli elementi culturali. Ci siano scambiati gli spermatatori ma anche idee. Anche perché le idee hanno un meccanismo curioso. se io ho una mela e la signora ha una mela e ce le scambiamo abbiamo una mela a testa ma se io ho un'idea e lei ha un'idea e ce le scambiamo abbiamo due idee a testa. Quindi le idee si sommano, si mesclano. pensate per farvi un'idea anche come funziona un'idea come la scrittura. La scrittura è nata tre volte nata da zero Medio Oriente Cina e poi America Centrale molto dopo. Ma quanti tipi di scrittura abbiamo? Tantissime. Perché? Allora io appartengo a un popolo che non ha la scrittura. Vengo da voi che siete fenici. Vedo il signore che fa dei tanti segni su una tavoletta d'Agila glielo chiedo e lui mi dice che contiamo quante navi entrano e escono dal portico. Bella idea. Torno a casa mia e lo racconto ai miei e ci inventiamo un'altra scrittura fatta su altre basi e poi un altro lo copio e così si sono diffuse le idee. Quindi ecco quando noi parliamo di identità vorremmo dire che noi siamo tutti identici e gli altri tutti diversi? Proviamo a vedere quando parliamo della nostra cultura. Recentemente c'è stata in televisione una provocazione di un giornalista che intervistava la gente e chiedeva per strada volete preferire usare i nostri numeri o quelli arabi? E nessuno vuole usare quelli arabi. Ecco per chi ricorda di noi usiamo allegramente numeri anzi sono un po' di origine persiana e io dico sempre già la matematica a scuola ci ha fatto venire matti pensate con i numeri romani fare la radice quale meno male che gli arabi ci ha inventato lo zero però ecco è un serie di tante cose quando si parla a volte oggi si fa un po' di retorica sul multiculturalismo in realtà le culture sono tutte multiculturali per darvi per darvi un esempio vi racconto un aneddoto che Ralph Linton era un professore di antropologia statunitense negli anni 40 50 più o meno e racconta questo aneddoto che il primo giorno di lezione facevo una sorta di scherzo una provocazione sui studenti chiedeva voi nella vostra quotidianità tra gli oggetti e non concetti oggetti che usate quanti sono americani siccome sono abbastanza nazionalisti andavano dal 70% in su allora cominciava facendo per esempio lei stamattina quando si è alzato la prima cosa che ha fatto avrà sollevato un lenzuolo fatto di cotone fibra tessuta in india del VI secolo a.C. si è alzato e ha infilato un paio di ciabatti inventate dagli indiani al gonchini poi si va a lavare in bagno col sapone invenzione dell'antica gaglia poi andiamo a fare colazione con una scodella in ceramica inventata in Cina ci mettiamo del caffè che arriva dall'Abissinia del cioccolato che arriva dall'America centrale o del tè che arriva dall'Asia poi esci vai a comprare un giornale con una moneta invenzione dell'antica Lidia compri un giornale stampato su carta processo inventato in Cina ma con caratteri mobili inventati nell'Europa del 1500 a seconda delle notizie ringrazio o meno una divinità ebraica di averti fatto il 100% americano se ha qualcun interesse in rete è molto più lungo perché non ho neanche un minervate delle erudizioni di Linton sono tre pagine di esempi come si fa vedere come nei nostri oggetti la banalità quotidiana siamo già il prodotto di tutti questi interscambi se uno vuole capire bene come funzionano come funziona la cultura una delle migliori metafora è il cibo voi pensate se quando si parla di cibi tradizioni locali i due piatti identitari italiani sono pizza e spaghetti uno è arabo l'altro è cinese su tutte e due mettiamo il pomodoro che viene dall'America quindi le culture funzionano così sono un miscuglio che danno vita a qualcosa di altro quindi dobbiamo cominciare a pensare che è vero che esistono delle differenze culturali ci mancherebbe anche perché se no noi antropologi perdiamo il posto quindi ci devono essere però di fatto ecco non sono dei monoliti le culture ma sono degli accrocchi che prendono pezzi da altre parti li incastrano e li fanno funzionare magari li fanno anche funzionare ma diversamente li metabolizzano e diventano qualcos'altro quando si vuole invece congelare una cultura si comincia a fare che cosa a pensare invece al passato faccio un salto indietro fine anni 80 prendiamo l'89 caduta del muro di Berlino come data con quel crollo e quello che conseguirà vengono meno quelle che sono state definite le cosiddette grandi narrazioni del novecento cioè le ideologie per dire ora indipendentemente da qualunque un'idea uno abbia dell'una dell'altra cos'erano le ideologie però delle promesse di un futuro no cioè credo in questo sistema qual è la società che io voglio a cui aspiro era questo il modello no la voglio egualitaria gerarchica meritocratica razzia non importa però erano un qualcosa si guarda avanti col crollo di queste narrazioni in tutta l'Europa e non solo si crea un vuoto politico che viene subito occupato da movimenti gruppi partiti di tipo localistico che invece fanno un'inversione cioè iniziano a diffondersi la metafora delle radici no però la radice che cosa fa guarda al passato cioè tu hai diritto perché sei nato qui io non ho scelto dove nascere forse neanche mia mamma però in ogni caso ero lì e invece io prima potevo scegliere di qual idea essere se tu mi leghi come fa la radice che si lega l'albero il terreno io non ho più scelta ma non ho scelto di essere questo è un allarme o ho subito a scappare e tornavo le radice ecco quindi si guarda al passato all'indietro non più al futuro è sparito di colpo il futuro ci richiamiamo e questo è una sorta di tribalismo guardare alle origini e allora ecco che la metafora delle radici peccato che noi abbiamo piedi ma questa metafora ha funzionato radici è una delle parole che funzionano e curioso anche qui se proprio vogliamo usare una metafora arborea ci sono anche i frutti che cambiano continuamente che sono la promessa del futuro invece siamo andati a guardare le radici altra parola che viene utilizzata spesso per legittimare un'idea del noi è la tradizione tradizionale quando si dice tradizionale tradizionale vuol dire nella accezione comune o meno così la pensiamo che è un qualcosa che si è sempre fatto così da tanto tempo ed è tipico di questo posto questo è il bene nel 1982 Eric Hobsman un storico non recente insieme a un antropologo e anche lui britannico Terence Ranger scrisse le stampe un libro destinato a cambiare proprio la visione si intitolava non a caso l'invenzione della tradizione si chiedono loro due dici ma ah che cosa di ciò che facciamo diventa tradizione mica tutto perché qualcosa sì qualcosa no e le tradizioni sono davvero sempre così lineari che vengono da quel posto di qui inizia il libro è composto da una serie di saggi che affrontano temi diversi ve ne racconto uno perché è quello forse che più abbiamo ma è già se di colpo qui adesso entra uno con un gonnellino di lana a quadretti cosa pensate voi eh che ha sbagliato posto è scozzese o si veste da scozzese o è matto vabbè bene noi identifiamo cosa c'è di più tradizionale del kilt che è il gonnellino e il tartan che è il tessuto quello che noi chiamiamo anche stoffa scozzese quadrettini quindi più di tradizionale di questo bene andiamo a vedere la storia del kilt il kilt nasce in Irlanda nasce in Irlanda attorno al 600 ed è fatto di lana grezza quindi ha quel colore giallastro grigliastro che ha la lana arriva nella Scozia del nord solo nella seconda metà del 700 e si diffonde solo tra gli Highlander che Highlander fa figo detto così ma per uno scozzese è montanaro montagna in grezza cioè non è un uncomplimento Highlander quindi noi abbiamo visto il film con Mel Gibson tutto è un'altra roba allora questo sempre in lana grezza diventa l'abbigliamento dei montanari nessun abitante di Edimburgo di via Berdin si avrebbe mai sognato di mettere una roba del genere facciamo un po' di salti arriviamo al 1822 c'è la visita a Edimburgo prevista del re Giorgio IV bisogna il protocollo prevede che c'è una cerimonia di accoglienza in cui sfilano i rappresentanti dei principali clan scozzese aspetta le famiglie scozzese Mac a chi viene dato l'incarico di organizzare la cerimonia al più grande scrittore scozzese dell'epoca Walter Scott l'autore di Ivano qualcuno magari se lo ricorderà Walter Scott se c'è una cosa che odia sono gli inglesi come per o meno tutti gli scozzesi ma lui un po' di più questo lo scrive dice cosa si può fare per far girare le scatole indietro e dice come vedo gli inglesi come pensano noi scozzesi come dei montanari sfiliamo vestiti da montanari cioè come dire provochiamoli raduna i responsabili delle famiglie e dice sfiliamo col gondellone va bene d'accordo mentre lì che lavorano tutte queste cose va a trovare un suo caro amico che si chiama Thompson Thompson è un commerciante di stoffa è appena tornato da una campagna di acquisti e vendite dalle fiandre in Belgio portando grandi partite di stoffa quadrettini uno più uno qui non si sa bene se Walter Scott o qualcuno ha l'idea dice ma se facessimo il cornellino coi quadretti ogni clan si sceglie un motivo un discorso sfilano con sto cornellino successo clamoroso un capo di abbigliamento irlandese fatto con stoffa belga diventa tradizionale scozzese allora questo e guardate che qui poi è interessante come si costruiscono poi anche lì le identità le retoriche sui motivi sapete che ogni clan ha un suo motivo scusi sono stati scritti decine di libri chi ci vedeva l'alfabeto gamico chi ci vedeva una sequenza di battaglie è astrofa belga quindi non c'entra proprio niente poi si può vedere questo però quello se ci fa pensare che le tradizioni non sono sempre qualcosa che viene dal passato oppure dal passato scegliamo quello che ci fa comodo oggi ci sono i figli che si generano i padri al contrario di quello che avviene ci costruiamo un passato che ci piace oggi vi ricordate quel cinico geniale che era Orwell George Orwell in 1984 il protagonista cosa lavora il ministero che riscrive la storia Orwell le azzeccate tutte purtroppo perché aveva ragione perché è vero noi riscriviamo sempre il nostro passato la tradizione a seconda del momento di cosa ci fa comodo nei libri di storia italiana quanto si parla del colonialismo poco o niente perché non ci fa comodo non ci piace nascondiamo e per ora l'impero romano rinascimento quelle sì le cose belle sì le altre meno e quindi di fatto noi costruiamo questa cosa su delle retoriche che sono invenzioni vanno bene funzionano certo servono d'accordo però diamogli l'importanza che hanno come nascono le nazioni nascono sull'idea che esista un popolo che ha diritto a un territorio perché ha diritto perché è lì da sempre allora ormai gli storici sono tutti concordi che nascono prima i nazionalismi e poi le nazioni uno dei casi più evidenti che è stato studiato è il nazionalismo tedesco e come nasce nasce da un gruppo in genere c'è un gruppo di intellettuali che comincia a riflettere sul fatto che esiste un popolo germanico da tanto tempo che ha diritto a un popolo ai tedeschi perché è andata bene perché c'è un libro scritto da Tacito che si tratta di Germani storico romano che dice queste tribù sono autotone di queste terre perché quando siamo arrivati le abbiamo trovati qui carta canta quindi noi c'eravamo prima dei romani e quindi qui puoi legittimare tutta una storia e tutte le nazioni si basano così nel 1885 uno storico francese Ernest Renan fa una conferenza che è diventato un libretto che c'è anche in italiano che si intitola che cos'è una nazione ed è interessante perché lui comincia a parlare lui è francese quindi parla della Francia e dice pensiamo alla Francia nel suo nome porta una dichiarazione etnica la Francia è la terra dei Franchi 10 12 facciamo 15 famiglie francesi sono di origine franca nessuna delle altre e poi va avanti la complessità e arriva a concludere dicendo per fare una nazione ci vuole una certa dose di memoria che ci faccia ricordare ciò che ci unisce e un'altrettanta dose di oblio che ci faccia dimenticare tutto ciò che ci divide le guerre che ci siano fatti tra di noi e questo ci fa anche capire appunto come le identità anche nazionali sono frutto di un prodotto di costruzione che può cambiare per qualche motivo perché la storia cambia pensate all'ex Jugoslavia un paese che è stato costruito sull'identità plurima e dopo 40 anni quell'identità si è frammentata in Bosnia Herzegovina Serbia è un progetto Cicchi e Slovacchi si sono divisi però la Germania è tornata unita la Catalogna prova ad andarsi non ci è riuscita chissà chissà la Scozia ecco questo ci fa capire quanto queste costruzioni sono prodotti della storia perché perché tutto ciò che le nostre culture o le nostre identità se volete chiamiamole come vogliamo sono un prodotto di relazioni la cultura l'antropologia si è dato un nome molto presuntuoso studio dell'uomo in realtà anche la medicina è il studio dell'uomo anche la storia anche la filosofia è tantissimo in realtà l'antropologia studia le relazioni cioè in che modo noi costruiamo le relazioni tra di noi e tra di noi e gli altri quando io studiavo l'università Torino ci circolava una battuta che i filosofi si occupano di Dio di psicologi dell'Io di antropologi dello zio perché se qualcuno di voi ha avuto la sfortunatura di dare un esame di antropologia sa che c'è un capitolo capitoli noiosissimi anche per me da spiegare sulla parentela noi siamo fissati con la parentela perché? perché la parentela l'hanno inventata tutti nel mondo perché non esiste in natura la parentela quindi non esiste la famiglia naturale nessun gatto ha mai avuto un cognato un cugino quindi non esiste l'abbiamo inventata noi ma l'abbiamo fatta in tanti modi diversi ma se ci pensate la parentela è il primo atto politico che gli umani hanno inventato cioè in che modo ci dobbiamo rapportare tra padre e figli di genitore con tra fratelli tra cugini un po' di tempo fa quando c'era stato ricordate la coronazione della pecora Dolly ecco un antropologo ironizzando ha detto pensa se adesso ci clonano che relazione abbiamo col clone da chi eredita da me dovremmo costruirci un nuovo grado di parentela col clone ma anche giuridico e tutto quindi la parentela è interessante per questo ecco noi ci costruiamo delle relazioni che sono parentali che sono gerarchie che sono sociali di tanto tipo ma queste relazioni cambiano perché cambia la storia attorno a noi allora questa identità se proprio non possiamo fare meno quest'idea del noi tacciamolo a matita perché noi dentro abbiamo tanto degli altri e ne avremo continuamente e il problema è che poi non neanche ce ne rendiamo conto ci costruiamo l'idea di purezza difendiamo la cultura italiana quale? dov'è che finisce e dove inizia? anche la mafia peraltro fa parte della cultura italiana quindi non costruirò la difenderei ma dov'è che finisce la cultura italiana? boh vallo a sapere ma nessuno sa ma non sono quei italiani nessuno delle altre pensate anche noi occidentali ci rifacciamo sempre l'idea giusta che tutto il pensiero occidentale viene dal pensiero greco razionale tutto ma guardate che il pensiero greco non è una cosa che i greci hanno sviluppato così pensiamo dove la Grecia aveva il Medio Oriente l'Asia la Persia lì vicino il mondo arabo il mondo mediterraneo il mondo balcanico i greci sono stati bravissimi a sintetizzare questo flusso di idee che arrivava da tutte le parti e a coniugare in questo affresco bellissimo ma non è una cosa pura è un processo di prendere e dare di debito credito che tutti abbiamo anche perché la parola purezza è tanto bella ma sappiamo che ha portato 6 milioni di morti ecco questa idea quindi un po' più bastarde è meglio in questo senso allora per tornare a noi l'identità quando si parla appunto di andare indietro per cercare il grado zero ecco forse vale la pena visto che il titolo è i custodi del fuoco c'è una bellissima frase di Gustav Mahler che dice la tradizione è la custodia del fuoco non il culto delle ceneri e il fuoco lo si fa durare aggiungendoci sempre legna nuova e quella legna non per forza la dobbiamo trovare qui la possiamo anche prendere da altre parti o arriva un altro a portarci della legna ecco le culture non sono un orologio assomigliano più a quei vecchi motorini un po' malandrati che gli cambia un pezzo prendi un pezzo un altro motorino e comunque partono sono dei meccanismi che hanno delle stranezze delle incoerenze incredibili un antropologo anche struttese Clyde Clarkun nel 50 concluse un suo libro bellissimo lo specchio dell'uomo con la frase le culture sono un insieme di pezze cocci e stracci ecco e aveva ragione sono un insieme di quello che prendi dagli altri lo mescoli lo ricambi e queste cose e poi però su questo noi costruiamo questa sovrastruttura l'identità è nostra è pura e questa è la nostra tradizione ora va bene perché magari può anche essere rassicurante e finché rimane a questo livello va benissimo ma quando questo poi si trasforma in motore per escludere qualcun altro e allora qui diventa rischiamo ecco le identità forti sono quelle dei totalitarismi e sappiamo che cosa hanno portato le identità forti e forse dobbiamo quasi chiudere perché vedo che è l'ora è ta vi raccontare un aneddoto che è riportato da Renzo Piano l'architetto famoso di Geno che tra tante opere che che ha fatto ce n'è una che è stata fatta in Nuova Caledonia Nuova Caledonia aspetta quell'isola che c'è a nord dell'Australia che è territorio francese è Francia tutti gli effetti cioè fa parte dell'Unione Europea e la Francia quando era Mitterrand decise di far costruire un centro culturale intitolato Jean-Marie Cibaut che era un leader Canac locale se guardate andate in rete cercate lo vedete perché sono questi edifici sembrano delle grandi capanne allora nel diario di lavoro Renzo Piano incontra una serie di ricercatori intellettuali che poi avrebbero dovuto gestire questo centro e dice chiedo se hanno qualche richiesta da farmi prima di progettare la prima gli dicono che ricordi il falè il falè è la capanna tipica dell'aria polinesiana che ha tra i lati chiusi uno aperto quello sotto vento e qui Renzo Piano tradisce un po' di spocchia come dire ci avevo già pensato io secondo punto gli dicono deve dare l'idea della tradizione orale perché qui abbiamo una tradizione orale e qui devo dire il colpetto di genio ce l'ha messo ha messo delle assiccelle di legno che a seconda del vento si inclinano e producono un rumore che sembra il chiacchiericcio della classe quando tutti parlano pian piano il terzo è quello che lo fulmina se voi guardate le foto andate a vedere in rete vedrete che qualunque foto prendiate vedrete sacchi di sabbia mucchi di mattoni puttrelle bulloni mezzo evitati gli hanno detto deve dare l'idea di una costruzione non finita perché la cultura è un cantiere sempre aperto ed è una definizione bellissima all'ingresso di questa cosa c'è una frase tratta da un discorso appunto di Jean-Marie Cibaou che dice non dobbiamo cercare l'identità nel nostro passato l'identità è davanti a noi è quella che costruiamo ogni giorno ecco allora se proprio vogliamo e non possiamo fare a meno di parlare di identità pensiamola come un qualcosa che a cui dobbiamo tendere noi a cui dobbiamo richiamarci dobbiamo costruirla ma soprattutto pensiamola anche al plurale perché siamo complicati noi umani quale identità io posso ammettiamo che io abbia anche un'identità forte nazionale va bene regionale benissimo quando vado allo stadio magari per quell'ora e mezza per quale mia identità privale quello di tifoso di della squadra per cui tifo io e mio fratello teniamo due squadre opposte poi siamo fratelli e andiamo d'accordo siamo stessa famiglia per cui se vado a cena prevale più l'identità di uno se uno è vegetariano prevale più la sua identità di vegetariano che l'identità politica in quel momento identità di genere cioè non abbiamo una sola a seconda del momento in cui siamo noi recitiamo una parte adatta a quel momento quindi siamo portatori più o meno sani di tante identità è come se noi avessimo un mazzo di carte e a seconda del momento io gioco la carta che mi sembra più opportuna poi riprende poi un altro momento avrò un'altra quindi ecco questo singolare pericoloso siamo molto più complessi siamo capaci di fare cose splendide delle cose terribili quindi non siamo così monolitici cerchiamo allora di provare a ragionare in termini proprio se vogliamo così di appartenenze diverse complesse ma soprattutto di situazioni in continuo divenire le relazioni perché cambiano perché cambia la storia cambia il processo le cose cambiano continuamente attorno a noi con buona pace di chi aveva scritto la fine della storia la storia avanti e allora per darci un'idea vorrei ricordare una frase che io ho letto di Ludwig Wigestein filosofo tedesco che non so se qualcuno di voi è un matto geniale ma matto che era anche un ingegnere non era anche filosofo che scriveva sui pacchetti di sigarette sui biglietti del treno quindi io vi dico questa frase ma non ho la più parere di cosa pensasse Wigestein e Manchester Wigestein scrive un recinto con un aperto è un recinto voi cosa rispondereste? no no perché Wigestein è un logico quindi fa le domande ma si dà le risposte e lui dice sì perché in gran parte per la maggior parte assolve ha la funzione di recinti allora mi direte cosa c'entra questo è un po' proviamo a immaginare che cosa sono le identità o le culture se volete perché poi una è legata alla sono dei recinti aperti cioè tutti noi nasciamo e cresciamo in un recinto non cresciamo in una bolla fuori dalla storia impariamo una lingua perché la parlano i nostri genitori impariamo a comportarci a mangiare certe cose a vestirci in un certo modo a salutarci a relazionarci con altri perché nella nostra comunità si fa così ma in quel recinto entra gente che viene da altri recinti e ci porta delle novità noi possiamo uscire dal nostro recinto e andare in un altro recinto e portare il tede oppure copiarne una di quelli poi la riporto indietro ecco la storia dell'umanità è fatta così di recinti che sono sempre stati aperti quando si sono chiusi sono successe le catastrofi ecco allora se riusciamo a pensare che non vuol dire che non esistano le culture esistono anzi ci mancherebbe che non risposte ma sono dei punto dei cantieri sempre aperti che smontano rimontano a volte fanno meglio a volte fanno peggio ma questo sono giudizi anche individuali ma di fatto questa idea che l'identità sia una discriminante e diventi il fattore perché guardate che il problema poi adesso abbiamo fatto grandi discorsi il problema è quando poi su questo io ci costruisco delle leggi cioè se i diritti li ho perché sono nato in un posto questa è una cosa disumana io ho avuto fortuna sono nato in una zona fortunata del mondo se nascevo in Burkina Faso non avevo la stessa futura ma è casualità scelta ecco perché e guardate questo si lega tutta l'attualità cioè quando parliamo di immigrazione si parla di rifugiati clandestini allora dobbiamo partire da un presupposto i diritti sono consustanziati all'essere umano oppure solo al fatto che siamo cittadini purtroppo è la seconda la risposta un diplomatico sabaudo del settecento Joseph Demetra in una lettera scrive una frase terribile per certi versi e quanto mai onesta lui dice tutta la mia vita di diplomatico in contatto inglesi francesi olandesi italiani non ho mai conosciuto un uomo però guardate che ha ragione perché noi se abbiamo dei diritti è perché abbiamo un passaporto non perché siamo esseri umani ecco e qui sta il problema che quando le identità escludono qualcuno dei diritti e allora diventano delle armi pericolosissime e allora ecco tracciarle a matita fare come facevano i greci e i romani con i barbari era molto più saggio di costruire muri fili spinati o retoriche di odio contro qualcun altro grazie nel 1908 Alcide De Gasperi dava anche lui una definizione di identità parlava di coscienza nazionale positiva diceva va bene sentirsi parte di un gruppo va bene avere una coscienza di nazione purché sia positiva ed in questa parola sta tutto il peso di un'idea De Gasperi diceva l'identità deve aiutarci a fare non solo farci sentire qualcosa un'identità del fare non un'identità dell'essere se ci vogliamo sentire parte di un gruppo rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci a disposizione per fare qualcosa per chi vive con noi le identità che sono un dato acquisito invece non aiutano a costruire nulla e spesso si risolvono solo in privilegio di pochi a costruire nulla